Si è conclusa la ventottesima giornata con tre postici più importanti ai fini della classifica, soprattutto per i piani alti, con la capolista Juve Stabia che torna a vincere e lo fa in casa nel derby sentito contro la Turris, ma senza polemiche il successo delle Vespe di Pagliuca che al primo minuto trovano la rete dei tre punti con Adorante. Tra le proteste per una sospetta posizione di fuorigioco la Turris nel secondo tempo insiste e prova a pareggiare i conti, ma Tiam è attento però fortunatissimo. Al 95esimo quando Giannone carica il sinistro da 30 metri e colpisce in pieno la traversa, allungano i gialloblu su Picerno e Avellino, resta a meno 7 invece il Benevento di Auteri che da quando siede sullo scrano Sannita ha raccolto 6 vittorie e 3 pareggi. Ne fa le spese il Sorrento, vantaggio di Ciano al cinquantesimo, raddoppia Ciciretti al minuto 62 per chiudere i conti. Definitivamente in ghiaccio la partita al 79esimo quando Bolsius realizza il Tris Poker di Simonetti al 92esimo. Non si ferma più la formazione giallorossa che si porta al secondo posto in solitaria, rimonta del Foggia che rende amarissimo l'esordio di Baldini sulla panchina del Crotone. Allo Zaccheria i calabresi passano in vantaggio con Zanellato al 64esimo ma è una reazione d'orgoglio quella dei Satanelli che prima all'ottantottesimo pareggiano i conti con Silvestro. Lo stesso Silvestro tre minuti più tardi realizza il gol del 2-1. Il Foggia inguai al Catania che scivola a ridosso della zona play-out mentre per il Crotone continua il periodo nero.